Sono stati scelti tra decine di ragazzi di tutta Italia Hanno studiato, lottato per arrivare alla tanto attesa finale Sto parlando dei 24 ragazzi della 35esima edizione del Cantamare Ospiti d'eccezione, cantanti internazionali, grande spettacolo e tanto intrattenimento Sabato 9 novembre su Canale 8 Il Cantamare, da un'idea di Gianni Contino, direzione artistica Rosanna Cipò